Anticipazioni Uomini e Donne. Barbara De Santi potrebbe presto lasciare il programma. Clamoroso colpo di scena. La nuova registrazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ha portato con sé una serie di colpi di scena e momenti di tensione che hanno acceso gli animi dei partecipanti e degli spettatori. Al centro delle polemiche, ancora una volta, troviamo Barbara De Santi, una delle dame più iconiche del programma, che ha vissuto una giornata particolarmente intensa e movimentata. In parallelo, la puntata ha visto lo sviluppo della storia tra Gemma Galgani e il cavaliere Fabio. Dopo una serie di delusioni amorose, Gemma sembra aver finalmente trovato una persona con cui condividere momenti sereni e felici. Il loro rapporto continua a crescere, e i due sono stati visti ballare insieme in studio, un gesto che ha sottolineato l'ottima intesa tra loro. Fabio, infatti, sembra essere un uomo che sa come trattare la dama turinese, e i fan non possono che augurare il meglio a questa nuova coppia. Barbara De Santi lascia il programma, negli ultimi giorni, Barbara ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere, con il quale sembrava esserci una connessione speciale. Le anticipazioni rivelano che tra i due è scattata una vera e propria scintilla, culminata in un bacio appassionato che ha fatto sognare i fan della coppia. Tuttavia, durante la registrazione, la situazione ha preso una piega inaspettata. Il cavaliere in questione ha espresso il desiderio di conoscere altre dame, nonostante l'interesse mostrato per Barbara. Questa dichiarazione ha scatenato una reazione furiosa da parte della De Santi, che si è sentita tradita e umiliata. In un momento di ira, ha minacciato di abbandonare il programma, un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Le sue parole sono state chiare. Non posso continuare a restare qui se le persone non sono sincere con me. Questo sfogo ha acceso un dibattito tra gli opinionisti in studio e il pubblico, che si è diviso tra coloro che sostengono Barbara e quelli che credono che debba concedere un'altra possibilità al cavaliere. Nel frattempo, un altro cavaliere, Alessio, ha deciso di chiudere la frequentazione con Margherita, dopo aver capito che non vi era un interesse sufficiente per proseguire. Tuttavia, continua a uscire con Prasanna, lasciando aperta la possibilità di un nuovo sviluppo sentimentale. Una curiosità emersa durante la registrazione riguarda l'assenza di quattro protagonisti del programma. Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Verona. Questa mancanza ha suscitato numerosi interrogativi tra i fan, che hanno iniziato a speculare sui motivi delle loro assenze. Armando, in particolare, ha già saltato diverse puntate nelle ultime settimane, alimentando le voci di un possibile allontanamento dal programma. Anche Mario, che di recente ha frequentato Morena, non era presente, e il pubblico si chiede se ci siano novità riguardanti la loro relazione.